Negli ultimi due posticipi della nonna giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina cade 2 a 0 in casa contro l'Empoli. Frena la sua corsa, si vede raggiunta dal Napoli al quarto posto in classifica, il Lecce al Blue Energy Stadium pareggia 1 a 1 contro l'Udinese. Un punto utile per i friulani che salgono a 6 punti e dolce amaro per il Lecce di D'Aversa. Fiorentina-Empoli 0-2, la viola di italiano prova subito a dettare i ritmi di gioco, ma dopo 5 minuti rischia tantissimo su un'incursione di Cambiaghi, la cui conclusione da dentro l'area è però involontariamente murata da Caputo. Udinese-Lecce 1 a 1, i pugliesi dominano nel primo tempo ma rischiano grosso e acciuffano il pareggio solo nel finale. Roberto Piccoli regala un punto prezioso ai Salentini.